ciao ragazzi video all quindi vediamo l'ordine che mi è arrivato dell'album a 6 allora per prima cosa ci sono vediamo se riesco a farvi vedere ci sono questi due solari che insieme c'era una promozione dove ti dava il travel set questa l'ha presa una mia cliente che poi è una ragazza doveva fare le pulizie quindi il latte solare da 50 fps più e poi questo è il dopo sole quindi questi poi va preso una cosa sì questo olio protettivo per per corpo e capelli e il regalo il regalo c'era il travel set quindi questo adesso cerco di farvelo vedere in qualche modo questo grande questo più piccolino sono tutte pochettine e poi c'era questo bianco questo era il regalo appunto per chi prende per chi spendeva 30 euro di solari quindi questo lo mettiamo qua poi 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 allora di mio c'è il balsamo quello lì della nutrireparatore perché avendo i capelli lunghi vedo che ogni tanto comunque sono un po' hanno bisogno insomma e poi siccome lo stavo finendo io uso lo shampoo sempre nutrireparatore quindi già che c'ero questi come questo non l'ho mai provato lo shampoo l'ho preso mi trovo bene ma questo non avevo mai provato allora l'ho preso anche questo così vediamo un po' come comunque un bel bocciotto è 150 ml di prodotto è un bel bocciotto poi mi sono presa l'acqua micellare della sebo vegetal quindi da pelle miste a grasse perché l'avevo finito e non sapevo più come fare poi qua c'è un sacchettino che ti mettono sempre loro io ho preso questa busta che sono i sacchetti che ho preso io medi e li ho voluti prendere con sopra con sopra questo il logo della euroshea con 60 anni di 60 anni insomma che sono aperti che l'azienda lavora insomma questo poi 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 allora la mia amica si è presa il sapone mani al cocco poi il gommaggio vegetale all'albicocca questo qui poi c'erano delle offerte sulle maschere ecco io mi ero presa che io mi ero presa anche adesso vedi mi stavo dimenticando perché mi sta finendo ne ho proprio pochissima pochissima mi sono presa due di questa crema di questa crema mani al al cocco e dentro c'è 30 ml di prodotto cioè questa crema veramente io le altre non le ho provate quindi non vi so dire l'odore ma questa qui al cocco è poi io col cocco ci vado a nozzi poi 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 allora questa è questa le ha prese la mia mamma che praticamente una è maschera luminosità questa qui rosa e l'altra è maschera rivitalizzante questa qui azzurra e anche qua ci sono 30 ml di prodotto poi la mia amica invece insieme al allora insieme al al sapone insomma è al al gommaggio di cocca ha preso maschera rivitalizzante e maschera purificante io invece le ho prese tutte e due purificanti perché c'era nell'album 6 l'offerta c'era l'offerta praticamente due maschere a 6,95 quindi questo poi mi hanno messo dei campioncini mi hanno messo un anti age global questo l'azienda perché non l'ho preso io poi mi hanno messo un liquid balm numero 03 se vi può piacere il colore è un po più scuro di come lo vedete voi e poi mi hanno messo il profumino dell'evides che carino ma non è un amore mamma che bello bellissimo e questa è la scatolina poi ovviamente ci sono ci sono ci sono gli album 7 questi sono gli album 7 che ci sono tante novità tra l'altro nella mia pagina facebook di rocher ho già spoilerato qualche qualche cosa insomma ho già messo qualche foto e basta poi c'è la fattura il mio bollettino da pagare finisce finisce qui quindi niente io vi mando un bacio e se vi va ci vediamo alla prossima ciao ciao